A Giulianova, dopo il prolungamento delle restrizioni per la zona rossa, decisione che ha suscitato forti polemiche da parte del Comune Costiero e dei commercianti, il sindaco Ivan Costantini ha incontrato insieme ad altri primi cittadini vertici dell'Aldri di Teramo per cercare di anticipare al weekend la fine delle restrizioni fissate inizialmente da provvedimento regionale fino al 2 maggio compreso. Durante l'incontro sono stati valutati nuovi dati inviati all'unità di crisi e che hanno evidenziato che alcuni territori colpiti dal provvedimento restrittivo in questo momento presentano ottimi parametri. Per questo motivo c'è grande ottimismo da parte dei Comuni per le riaperture a partire da venerdì 30 aprile. Domani si vadano a certificare presso l'unità di crisi quelli che sono i numeri che sono emessi dalla relazione che è stata già inviata nella giornata di ieri appunto e quindi sono assolutamente convinto che si certificherà e noi riusciremo a avere con una ordinanza che sarà immediatamente esecutiva già la zona gialla per quanto riguarda la giornata di venerdì. Questo permetterebbe ai nostri commercianti, ai nostri ristoratori, ai nostri cialetti di riaprire visto che abbiamo dei numeri che sono assolutamente incoraggianti e dobbiamo dire che comunque anche nei momenti più critici anche da setti due settimane fa avevamo dei numeri che comunque rientravano nella linea governativa dei 200 contagi ogni 100.000 persone. È stato un grande lavoro, nei primi giorni naturalmente siamo stati molto aggressivi soprattutto per quanto riguarda le dichiarazioni sulla stampa, sia io che il partito che rappresento e ringrazio il segretario regionale nonché onorevole Luigi Deramo, ma ha prodotto i suoi effetti perché in tempi assolutamente ristretti siamo riusciti a produrre una relazione, a convocare l'unità di crisi molto prima rispetto a quello che era previsto e sono convinto che poi riusciremo a dare le risposte ai tanti cittadini che aspettano. Naturalmente ricordiamo che c'è il Partito Democratico che si augurava di riaprire lunedì 3 e poi di mandarci tutti in zona arancio. Io invece sono convinto che con i numeri che avevamo in mano, visto che noi li avevamo analizzati, loro probabilmente no, non dovevamo neanche andarci prima in zona rossa. Però questo appartiene al passato e da domani, spero domani sera perché naturalmente io sarò presente, da domani sera si possa avere un'ordinanza immediatamente esecutiva e così dalla giornata di venerdì i nostri tanti commercianti, le nostre tante attività possono riaprire. La cosa importante è che la situazione in città è sotto controllo? Assolutamente sì, l'è sempre stata, ecco perché abbiamo reagito in maniera anche scomposta qualche volta, l'è sempre stata, questo lo dicono i numeri, adesso è proprio in una situazione incredibilmente sotto controllo perché voi provate a pensare, sono due giorni consecutivi che la città di Giuliano fa un solo contagio su una popolazione di 24 mila abitanti, quindi comprendete bene che è assolutamente sotto controllo.